Salve a tutti amici telespettatori Sono Yofre Peggiore La prima abituata di Yofre Peggiore E oggi siamo qui per intervistare Due grandi star Che ha fatto il boom su Youtube Entrambi, anche chi l'ha fatto su D-Max E su mille altri canali americani Con noi signore e signori c'è Les Gold e Rosario Muniz Cominciamo da te Les, ciao Salve, come va? Parlesci del tuo banco dei pugni Il mio è un impero di 4600 metri quadrati Se io ti direi Sopra la panca da capra campa Tu che cosa mi diresti? Ma sei fuori di testa per caso Se un tuo lavoratore fa qualche cazzata Tu come rispondi? Sei licenziato Bene Parlami di te Mi chiamo Les Gold Solo? Va bene Se qualcuno fa un furto Tu come rispondi? Chiamo la polizia E se tu vuoi cacciare qualcuno dal negozio Come glielo dici? Non ti azzardare mai più a tornare nel nostro negozio E se qualcuno ti minaccia? Mi stai minacciando? Bene Qual è la frase che dici più spesso? Mio figlio poteva morire Capisco E se nomini il nome di Dio come lo nomini? Oh mio Dio Capito Bene Quale daresti per questa intervista? Che ne dici di 1500? No 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 Le vuoi 3500? No D'accordo Lo farò Ok Ora passiamo A Rosario Muniz Ciao Ciao sono Rosario Questo lo sappiamo già Bene Ci vuoi dire di che cosa hai bisogno ulteriormente? Ho bisogno Di cazzi enormi intorno Altrimenti sono depressa Sono depressa Vado giù Ma sono distrutta Capisco E che cosa ti piace fare? Voglio scavaggiarmi sulle campagne Capisco Bene Che cosa vuoi? Ma io lo voglio Lo voglio per bene Un bel cazzo enorme Perché è una figa del culo Mi raffredda E te la maschio Bene Qual è il tuo soprannome? Il mio soprannome è Stucchiapulli Che cosa vorresti che un uomo ti farebbe? Ho la figa nel culo Voglio essere stuprata Voglio essere stuprata Cazzo Se tu inviti un uomo Dove deve venire? Vieni a stuprarmi Vieni a violentarmi Vieni Vieni ad aprirmi Come una cozza Bene ho capito Che cos'hai tu nel culo? Ho la figa nel culo Cazzo Ho la figa nel culo Va bene Ti credo sulla parola Se non lo fai Tu che cosa fai? Se nessuno ti dona qualche cazzo Tu che cosa fai? Io mi ammazzo Io mi ammazzo cazzo Chiara c'è a cappella il tuo ultimo inedito? Ma io mi spoglio qui in diretta Mi spoglio qui in diretta Basta Sei stufa di tutto ciò? Basta 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 Bene Che cosa ti piace? Ma proprio assai Mi piace scolleggiare sulle cappelle Che cosa sei per te? Io quanto scopo Sono una gran puttana Bene ho capito Allora ragazzi Il video di oggi finisce qui Anche alla puntata radio Iscrivetevi al canale Perché tra pochi Tra pochi Tra pochi Cioè Tra pochissimo tempo Il prima possibile Uscirà una nuova puntata ragazzi E cazzo Iscrivetevi a questo canale Perché ritornerò Con nuovi programmi radio E mi raccomando Se volete altri personaggi Commentate Che io Ve li manderò qui Su Radio Freppeggiore Ciao a tutti Ciao a tutti